In occasione della giornata internazionale della montagna, oggi l'Agenzia regionale di protezione civile e il CAI, in particolare il servizio valanghe italiano del CAI, sottoscrivono una collaborazione molto importante sulla formazione delle figure che servono per analizzare il rischio valanghivo a livello regionale. Quindi formazione di figure particolari che sul territorio andranno ad analizzare il rischio valanghivo in Abruzzo.